Come diceva il mio collega Fulvio, insomma questo è uno spettacolo su Campana, non mi dilungo a ripetere ciò che ha detto lui, però penso che la cosa che mi tocca di più sia proprio lavorare su un artista che al di là della moda del suo tempo riesce in qualche modo con grande sofferenza a lasciare un pezzo di sé e questo appunto nonostante lui viva in un periodo dove il suo tipo di arte viene osteggiato profondamente, penso che queste purtroppo siano dinamiche abbastanza comuni agli artisti che non seguono un po' le linee del proprio tempo e invece è una cosa grande quando questo accade, poi non lo so per quanto riguarda me, io ho un grande piacere di lavorare con quest'attore incredibile che è Fulvio, e io appunto lavoro non su un personaggio ma su una presenza, su questa presenza femminile che è un po' la sua ossessione e che si trasforma di volta in volta da madre a amante a cugina a femmina e basta, donna e basta, insomma questa grande assente e niente questo è molto interessante questo tipo di lavoro.